ben tornati sul canale delle perle di vale oggi andremo fare questa borsa purtroppo nella mia videocamera non ci sta tutta intera quindi ve la faccio vedere a pezzi e vi metto tutti i materiali nell'info box vi ricordo che tutto quello che avete che vedete nel video è stato acquistato sul sito di roberto che è www.modamerceria.it io vi farò vedere come realizzare la borsa io poi infine ho messo anche questo questa lana pelliccia però non è obbligatorio io l'ho messo perché a me piaceva mi sembrava più rifinito poi come vedete io ho optato per queste queste rondelle fatte con il cordino perché roberto mi aveva mandato appunto le rondelle permettere con le pinze per mettere gli anellini nella borsa ma io ho fatto una prova e mi ha rotto il cordino quindi ho deciso di fare in questa maniera per irrobustire ulteriormente la la presa diciamo questa è una borsa non esattamente piccola perché vi dico subito larga 32 e alta 28 quindi è una borsa abbastanza capiente non ha chiusure ho messo una tasca con la cerniera e ho fatto questo questo porta chiavi diciamo ma più che porta chiavi è per bellezza perché mi sembrava un po vuota davanti per il resto la la borsa è così far strutturata così vi ricordo che ho messo anche i piedini e niente io spero che il video che state per vedere vi piaccia magari se mi mettete un commento mi fate sapere il vostro la vostra opinione se c'è qualche cosa che non capite scrivetelo io cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile e niente detto questo a mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati dei nuovi video che metterò e se vi fa piacere mettete un like io sarei felicissima bene detto questo io vi lascio al video tutorial e ciao al prossimo video allora come avete visto in anteprima faremo la borsa con questo cordino qua ed è questo poi avremo bisogno di dei due manici che è questi già compresi con i loro attacchi e sono tipo pelle lucida sul grigio poi io ho usato un uncinetto 4 e mezzo però qui è scritto che si può usare 3-3 e mezzo io uso un numero in più perché voglio che venga un po' morbida io avendo una mano molto stretta mi viene molto compatta e sinceramente ho fatto le prove e non mi piace quindi uso un numero in più poi voi vedete come vi piace di più bene detto questo io andrò a iniziare la mia lavorazione facendo 40 catenelle ora facciamo la il nostro cappietto e facciamo le nostre 40 catenelle 1 2 3 4 5 6 e vado avanti così fino a 40 con la ora un po' adempio un po' di più una un po' di più 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 il tracking inc Claudio 38 39 e 40 ho fatto le mie 40 catenelle più una e due perché andremo a fare a il primo giro a maglia alta quindi fatte le due catenelle io inizio salto 2 e faccio la mia prima maglia alta e faccio così per tutte le maglie sottostanti quindi andrò a fare tutta la fila di maglie alte poi ci vediamo alla fine ok io ho fatto tutto il mio giro ora giro il lavoro faccio una catenella giro il lavoro e andrò a fare il lavoro della maglia tirata in questo modo siamo qui noi non andremo in questo buco qua come di solito si fa il lavoro normale se dovessimo fare tutte maglie mezze alte cioè tutti i giri no facciamo in questo modo andremo a prendere vedete il buco sotto vedete qui sotto questo fra le maglie alte dovremo andare negli spazi appunto quindi iniziamo a inserire il nostro uncinetto qui prendiamo il filo e facciamo una maglia allungata e chiudiamo e facciamo mi raccomando questa maglia qui tenete la stretta cioè tenete l'abbastanza stretta perché altrimenti quando andremo a girare vi genera un buco molto grande che quando andiamo a fare il giro perimetrale dopo è antiestetico e sta male quindi teniamo cerchiamo di tenere la maglia stretta bene detto questo ci inseriamo in questo spazio qua prendiamo sulla maglia l'allunghiamo e chiudiamo e andremo così nel prossimo qui prendiamo e facciamo e chiudiamo in pratica a maglia bassa ma in realtà è una maglia allungata rifacciamo in pratica è un punto basso con la maglia allungata vedete dovrebbe venire così e facciamo così per tutto il giro fino alla fine e poi ci vediamo e vi dico la continuazione sto arrivando alla fine del mio secondo giro prendo qua faccio la mia maglia bassa e nell'ultimo prendo qua nell'ultimo spazio e faccio la maglia bassa ora dobbiamo fare il giro di maglia alta dall'altra parte vedete che con il numero in più viene si abbastanza compatto ma non molto ristretto molto duro vedete allora come facciamo giriamo faccio una catenella per girare faccio un'altra catenella e per non fare tanto buco perché qui altrimenti rimarrebbe molto cosa faccio carico il filo per far la maglia alta e vado nel primo spazio che troviamo questa volta facciamo una normale maglia alta vedete e qui si genera meno spazio mi raccomando altrimenti quando andiamo a fare il premio metale se c'è molto buco si vede ed è brutto quindi carico prendo la mia maglia alta normale qui e faccio la maglia alta così così scusate così e vado avanti così per tutti i giri fino a che non raggiungo l'altezza desiderata per la mia borsa ma dobbiamo alternare una maglia alta e un giro di maglia bassa un po allungato diciamo io lo chiamo così quindi si fa un giro si un giro di maglia alta un giro di maglia bassa un giro di maglia alta e un giro di maglia bassa per avere poi dopo questo effetto se vedete presa nella maglia bassa presa nel nello spazio sotto e non tra le due maglie come di solito si fa e continuo così fino all'altezza desiderata poi vi metterò il numero di giri che ho fatto per per quanto riguarda la mia altezza poi dopo ognuno decide come vuole fare quindi ci vediamo a fine lavoro bene ho finito i pezzi ho fatto i due davanti e il dietro poi dopo me lo aggiusterò perché è venuto un po' con questo punto mi è venuto un po' diciamo storto ma dopo quando io andrò a mettere la rete andrà tutto perfettamente vi faccio vedere poi dopo quando ho messo come metterò la rete e la fodera e ho fatto il pezzo lungo per fare i laterali e il fondo ora vi dico ho fatto per fare i due il davanti e il dietro ho fatto ho iniziato 40 maglie e ho fatto 27 giri che viene 25,5 mentre la larghezza è 30 30,5 se non mi sbaglio andiamo a misurare però 30,5 mentre qui ho iniziato 8 maglie e ho fatto 129 giri più il giro di perimetrale quindi dopo vengono 130,131 io ho fatto 130 comunque voi poi dovete fare dovete misurare in base alla vostra mano dovete misurare bene i pezzi io li ho uniti per vedere se era da aggiungere o da togliere perché spesso anche se conto i giri diciamo il perimetrale che ho fatto non è mai dello stesso numero quindi vi conviene sempre controllare bene io ho detto questo andrò a mettere ho messo questi due segni perché questo sarà la base sotto che andrò a mettere qui anche un pezzettino di rete poi vi farò vedere e ci vediamo dopo ok come vedete io ho messo la rete dietro in tutti i davanti dietro e l'ho messa anche nel pezzo lungo dove ho diviso a metà e poi ho fatto il fondo nel fondo ho inserito anche i piedini e comunque vi metterò anche il link dei piedini nell'info box ora andrò a mettere la mia fodera che ho già preparato e vi faccio vedere io mi sono fatta la fodera sia da una parte in questa ci ho dovuto mettere la cerniera e in questo qui il taschino e andrò a cucirla a mano in questo modo qua vedete? vedete? così lo andrò a cucirlo in tutte e due le parti e nella parte lunga andrò a mettere il suo pezzo che è questo e anche questo andrò a cucirlo così tutto a mano io preferisco metterlo a mano e metterlo pezzo per pezzo perché per me la fodera rimane meglio nella borsa voi se volete potete anche unire e unire questo con questo poi fare tutto il giro attorno in questo modo dovete fare così mettete dalla parte che dovete cucire logicamente dalla rovescio cucite tutto il pezzo attorno e poi ci mettete l'altro pezzo io come ho detto lo cuccio pezzo per pezzo e lo cuccio a mano perché per me quando si apre la borsa sta molto meglio quindi ci vediamo quando abbiamo finito di mettere la fodera come vedete io mi sono già portata avanti ho fatto in questa maniera qua vi dico perché Roberto mi aveva mandato gli occhielli con la pinza però in realtà quando sono andata a fare la prova mi è venuto questo effetto qua vedete? che esce e dove mi ha preso mi ha tagliato il cordino e quindi ho dovuto addirittura qui avevo la rete ho dovuto tagliare la rete per provare a metterla ma comunque ho visto che viene un lavoraccio e poi si stacca e mi taglia quindi ho scelto questa opzione sicuramente ci sarà un modo da mettere anche gli occhielli però io per adesso ho scelto questo proprio per avere un lavoro più pulito e più sicuro questi li ho messi perché come vedete qua ho fatto il buco per coprire il buco e mi sono andata ad infilare nella maglia dietro e poi ho messo e ho cucito questo ma vi faccio vedere come ho fatto questo era per farvi capire il mio lavoro quindi ora andiamo a vi faccio vedere come inserire io ho preso le misure con il mio manico che è questo ho fatto dall'inizio 8 e 6 e 8 e 6 ho centrato e ho fatto due segni con questi pennarelli per la stoffa che vanno via poi cosa faccio io con l'aiuto di un punteruolo mi faccio il mio segno dove devo entrare mi raccomando nella stessa riga mi faccio diciamo un piccolo buco foro prendo il mio moschettone lo vado ad inserire vedete così e come ho detto nel secondo scusate qui vedete l'ho messo nel secondo nella seconda riga vado a farmi il segno da questa parte di qua vedete così e qui si vede dove c'è dove c'è il diciamo la parte che deve uscire cosa faccio io con l'aiuto scusate di un paio di forbici mi faccio un taglietto piccolissimo dove sento vedete dove sento il il ferro del moschettone in questo modo questo non lo tagliano ma piccolo è perché sennò vedete proprio un puntino per fare uscire il mio moschettone vedete in questo modo guardate vedete così è uscito ora prendo i miei due pezzetti questi è un anello magico di cui ho fatto otto maglie e otto si otto catenelle di cui ho fatto due maglie ogni catenella in pratica mi è venuto questo fate solo un giro ma ogni catenella fate due maglie ora faccio in questo modo inserisco vedete qua così vedete questo e faccio così anche da quest'altra parte vedete così e andrò ora a fissarli in questa maniera qua in modo che viene coperto dove ho fatto il buccanino quindi viene un lavoro molto più pulito poi dopo vi faccio vedere come attaccare l'altra parte della nostra borsa che poi verrà in questa maniera qua vedete quindi ci vediamo dopo io adesso vado a cucire bene ora abbiamo finito anche questa parte qui vedete ho messo i due moschettoni con i nostri cerchetti diciamo ora andiamo ad assemblare anche questa parte quindi dovremo fare iniziare da questo con il filo con lo stesso filato io prendo il numero 4 e vado a fare un punto bassissimo lasciamolo un po più lungo perché deve dare modo a ecco vedete così vedete ora prendo la parte questa parte inserisco e me lo porto avanti ok ora mi raccomando devono essere pari le due parti sia del laterale che la parte davanti prendo tengo il mio filo mettiamo da quest'altra parte entro nella seconda nella seconda maglia nella seconda asola prendo e faccio un punto bassissimo così e vado avanti prendo la seconda prendo e questo qui poi lo metteremo dopo lo chiudiamo dopo prendo e vedete così deve venire tutto a punto basso ok così vado prendo il filo e porto sopra vedete li faccio prendo le due asole così vedete queste e questa raccolgo il filo porto avanti e faccio passare vedete deve venire tutto a punto basso fino a quest'altra parte io vi consiglio di mettere una un fermo per far sì che venga tutto uguale da tutte e due le parti io metterò una mollettina questa in modo da tenerla ferma così così mi regolo di come mettere su la parte comunque vi faccio vedere al lavoro finito mi raccomando dobbiamo fare sì che questa parte stia bella tirata come la parte questa che poi vedete come viene rifinita quando diamo il punto bassissimo bene io ora faccio tutto il mio giro borsa e poi faccio vedere alla fine come vedete la borsa l'ho finita voglio vedere se si riesce a farla vedere vedete ho messo infine anche questo pilino non è obbligatorio ma a me è piaciuto tanto con cui io vi metto nell'info box anche il link dove di questa di questa lana perché questa in realtà l'avevo presa per fare un'altra borsa tutto col pelo però mi è piaciuta questa idea e l'ho messo così poi vedete il dentro vedete che ho messo questi questi cerchietti che abbiamo fatto con uncinetto ho inserito il suo manico e ora andrò a fare un portachiavi vedrò come fare poi ve lo faccio vedere a borsa finita vi faccio vedere e vi farò l'anteprima e vi ricordo che io ho messo anche i piedini vedete e questa è la borsa finita a me piace tantissimo è una borsa che si porta solo a mano è aperta però io dentro ho messo la cerniera vi faccio vedere ho messo un taschino con la cerniera vedete quindi se volete mettere delle cose per paura di perdere le mettete dentro questo taschino bene per il resto è tutto io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato di aiuto per qualsiasi cosa scrivetemi e io vi risponderò il prima possibile detto questo iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati dai nuovi video detto questo vi saluto e vi rimando al prossimo ciao grazie